Arrestato anche l'ultimo componente dell'organizzazione di caporali che sfruttavano cittadini marocchini impiegati in alcune aziende agricole delle campagne padovane, vicentine e veronesi. Si tratta di un marocchino di 27 anni bloccato dai carabinieri all'aeroporto Oriol Serio di Bergamo al suo rientro in Italia. L'indagine, iniziata nel maggio del 2019 dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, aveva già portato all'arresto di quattro persone nel novembre del 2020. Due marocchini, titolari dell'azienda fornitrice della mano d'opera, un albanese che aveva la funzione di intermediario e una consulente del lavoro vicentina che consentiva alla cooperativa di evadere gli oneri contributivi da versare dipendenti sfruttati. L'indagine aveva portato alla luce un sistema rodato di sfruttamento della mano d'opera. L'organizzazione approfittava dello stato di bisogno di una cinquantina di marocchini e li sfruttava facendoli dormire in baracche fattiscenti senza riscaldamento né corrente. I lavoratori venivano svegliati all'alba e trasportati in auto per eludere i controlli nei posti di lavoro dove lavoravano senza sosta per 12 ore pagati appena 6 euro l'ora.